Allora, vogliamo Maurizio cominciare anche a sentire così qualche parere, opinioni, come si dice nel calcio, a caldo? A caldo. Michele Schembri. Niente, io sono sempre più convinto un po' delle scelte che poi abbiamo fatto ieri, no? Cioè la cosa importante e bella è che questi ragazzi comunque hanno questa possibilità in un meraviglioso studio televisivo con una conduttrice top. Grazie, la produzione, l'intero gruppo televisivo ringrazia. Io faccio in bocca al lupo a tutti i ragazzi che abbiamo scelto, cioè nel senso anche quelli che non abbiamo scelto, un veramente di cuore, un bocca al lupo e credete sempre in questo sogno che è un sogno meraviglioso. Poi Michele c'è sempre modo di rimettersi in gioco, no? Quindi voglio dire nulla è andato perso. Chi voglia ascoltare? Adesso sentiamo della commissione Radio Web TV Elisa Baroni. Sì, subito. Arriva, arriva. Intanto l'applaudiamo mentre arriva il microfono. Grazie. È la mia prima esperienza, è stata un'esperienza straordinaria. ragazzi inimmaginabili, veramente, un gruppo molto molto unito. È stato difficilissimo comunque fare delle scelte, naturalmente. Niente, in bocca al lupo a tutti e viva il lupo. Grazie. Grazie anche a te Elisa. E poi sentiamo un attimo anche Alfonso Stagno. Ah, con piacere. Intanto grazie Maurizio per tutto quello che fai per questi ragazzi. È un compito abbastanza pesante. Non ti nascondo che siamo stati veramente presi in difficoltà, non indifferenti, nel tirare fuori questi finalisti. perché in realtà da innumerevoli iscritti che hanno aderito al concorso, Maurizio ha convocato 24 che poi sono diventati 26 artisti qua a Roma. C'è stata una selezione ed è stato difficilissimo tirare fuori questi 12 che poi sono diventati 14, sempre per gli ex-equo. Ma la cosa bella è la testimonianza che abbiamo qua. Giocco l'anno scorso non ce l'ha fatto, è tornato, si è esibito su questo palco. Palco che è importante perché è una vetrina, non solo per quello che è stasera, ma per quello che ne verrà in futuro. Sappiamo benissimo che oggi i social la fanno da padrone, quindi i canali YouTube ripetono continuamente quelle che sono le trasmissioni televisive, quindi sono un eco, una cassa di risonanza importantissima. E quindi questa vetrina non va valutata oggi per oggi, ma rimane nel tempo, rimane nella memoria, proprio attraverso i canali che i ragazzi poi sono bravissimi a portare avanti. Ognuno seguirà un percorso. E di conseguenza è un obiettivo importante. esserci stati non è importante chi ha vinto, è importante chi c'è stato. E anche coloro che questo giro non hanno trovato il posto, lo troveranno domani, ma anche loro sono qui e avranno anche loro la possibilità di portare la loro immagine in giro per il mondo. Grazie Maurizio. Grazie. Grazie Alfonso.